puntata per fare il riepilogo un po' di quello che è successo alla giornata incominciamo subito con quello che è successo ieri sera alla chiusura delle borse come vi dicevo nella puntata di ieri se non l'avete fatto ascoltatela come tutte quante le altre puntate ebbene aspettavamo le primi trimestrali alla chiusura delle borse beh trimestrali toste perché parliamo di due big assolute come alfabet microsoft per non parlare chiaramente dell'altra big che visa ebbene e come sono andate sono andate male molto male direi e con punizione secondo me pure esagerate per qualche azienda beh partiamo subito da microsoft che tra le aziende di ieri era la più capitalizzata ebbene è andata davvero molto molto male è stata punita in borsa dal mio punto di vista in maniera eccessiva e mi riferivo proprio a microsoft quando dicevo che è veramente eccessiva la punizione verso questa azienda sta perdendo più del 7% in borsa ebbene c'è alla fine l'azienda comunque è andata meglio di quello che pensavano gli analisti perché le utili operazioni è a 2,35 rispetto al 2,32 che si aspettavano gli analisti ma anche i ricavi sono stati superiori perché parliamo di 50,1 miliardi rispetto ai 49,86 allora perché perde tanto sicuramente per quello che si è visto nei conti perché poi alla fine rispetto ai trimestri scorsi perde un po' su tutti i punti direi tranne forse il cloud che è andato bene tutto il resto beh molto 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 male molto male dovuto soprattutto al fattore del cambio che ha fatto chiaramente ha fatto riferimento anche microsoft soprattutto in alcuni ambiti ha perso anche più del 5-6% se non ricordo male invece il cloud ripeto è andato molto bene più 20% però anche lì se si va a vedere sotto le aspettative si pensava da un momento ancora migliore nonostante ciò i ricavi comunque sono aumentati dell'11% perché parliamo chiaramente di 50 miliardi in tre mesi e tanta 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 roba che comunque a parità di cambio a cambio corrente cioè con lo stesso cambio di l'anno scorso sarebbe stato addirittura un 16% è ovvio che se un'azienda come microsoft qualche settimana fa decide di licenziare delle persone è perché chiaramente sa che ci saranno dei cali si è visto dei cali ovvi e soprattutto a livello di utili a livello di margini ma soprattutto facendo il confronto con lo stesso periodo dell'anno scorso si vede un decremento chiaramente di un po' tutti i settori ripeto ma non così clamorosi secondo me da essere punito con un meno 7 cosa diversa invece per l'altra big e parliamo di alfabet cioè google per chi non sa che cosa è alfabet basta parlare di google non è solo google chiaramente ma per far capire di cosa stiamo parlando in questo momento perde più del 9% anche se ha registrato un incremento della pubblicità del 2,5% a 54,5 miliardi anche se il consensus si aspettava un po' un po' meglio direi che si aspettava 57 i ricavi sono stati 69 miliardi tanta tanta roba direi io però meno del consensus che si aspettava 71 e 34 l'utile per azione molto male perché 1,06 rispetto all'1,28 ma si è visto in questo caso un po' male 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 su tutti i settori uno dei settori che aveva fatto molto bene per esempio nei trimestri scorsi era quello riguardante la pubblicità su su youtube ebbene molto molto male perché purtroppo ci sono stati dei cali ma anche sul motore di ricerca google un po' da tutte le parti sono rimasto un po' stupito negativamente per quanto riguarda questa trimestrale di google e di alfabet e devo dire la sincera verità non promette molto bene per le prossime trimestrali forse per questo è stato eccessivamente anche qui punito 9% mi sembra un po' tanto parliamo comunque di un'azienda che in tre mesi ha fatto 69 miliardi quindi non mi pare una cosa da poco anche qui cali degli utili cali dei margini e questo non è di certo una buona notizia invece viceversa visa davvero 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 molto molto bene non mi aspettavo una trimestrale così buona divisa l'utile per azione a 1,93 rispetto all'1,87 i ricavi a 7,8 miliardi rispetto ai 7,57 qui si aspettava un po' tutto in negativo invece devo dire la sincera verità è andata davvero molto 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 bene per visa male 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 anche Spotify oggi anche qui ha fatto un bel po' di perdite rispetto a quello che si aspettava anche io non mi aspettavo delle perdite così è strano come molte aziende che sono nel Nasdaq sono quotate nel Nasdaq abbiano perso tutto e questo è chiaro che i tassi alti si fanno sentire in maniera evidente sugli utili o meglio si incominciano a far vedere perché nel trimestre scorso non si erano ancora intravisti invece in questo si incomincia a vedere proprio l'effetto su alcune tipo di aziende proprio le aziende più tecnologiche le aziende quelle quotate sul Nasdaq quelle che di solito sono più indebitate e quindi esposte chiaramente ai tassi di interesse su questo debito quindi è evidente tutto ciò non a caso il Nasdaq in questo momento sta perdendo più del 2% rispetto a un S&P 500 che perde molto ma molto meno dell'1% poco più del 0,5% quindi davvero 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 difficilmente si vede una differenza così grossa tra Nasdaq e S&P 500 parliamo di più di un punto e mezzo percentuale e questo proprio per quello che dicevo prima per tutte queste perdite che stanno avendo queste società tra l'altro proprio parlando di Nasdaq questa sera dopo la chiusura delle borse beh ci sarà la trimestrale di meta occhi fari puntati domani ne parleremo tanto di meta voglio parlare anche di un'altra cosa delle obbligazioni voglio parlare un po' del nostro BTP ma non solo chiaramente di treasury partendo da quest'ultimo e beh si sta vedendo un calo molto 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 interessante dal mio punto di vista dei treasury americano era arrivato praticamente al 4,33% invece in pochi giorni è ritornato sul 4% lo si è visto anche in casa nostra oggi c'è stato il BTP il decennale che è arrivato al 4,31% meno 5 punti base tra l'altro è stata messa all'asta sono stati venduti tutti quanti i 4 miliardi di BTP a due anni e quelli indicizzati a 5-10 anni con un rendimento tra l'altro in calo in particolare sono stati assegnati 2,5 miliardi di BTP a due anni e con il rendimento appunto in calo e poi sono stati assegnati 750 milioni di BTP indicizzati a 5 anni quelli a due anni sono stati a 2,88% quelli a 5 anni a 1,55% e i 750 milioni di quelli a 10 anni a 2,22% cosa dire no forse su quelli mi sbaglio su quelli a 5 anni il rendimento non me lo ricordo bene non credo che sia 1,55% fatto stacco sono tutti i rendimenti in calo con BTP e questo è molto molto interessante potrebbe essere che veramente la cuva sia in inversione e se si è aggiunto nelle settimane scorse a un massimo per quanto riguarda le obbligazioni interessante anche quello che sta succedendo nel cambio è da tanto tempo che non andava in parità il cambio euro-dollaro invece adesso è sopra la parità è questa altra buona notizia direi per chi ha per chi chiaramente ha asset di casa nostra non certo per chi ha asset stranieri interessante anche quello che sta succedendo sulle criptovalute perché tutto in aumento bitcoin ha superato quello che era una forte resistenza dei 20.000 punti è sui 20.785 anche qui secondo me c'è una nota veramente da rilevare perché ha messo a segno il miglior rialzo ormai da inizio settembre anche qui punterei un po' i fari perché sembrano un po' in rimonta proprio con si è sembrato proprio una come se ci fosse un po' più di propensione al rischio e come molte persone fossero uscite un po' da tutti gli asset azionari del nasdaq che fossero andate un po' su quelle ancora più rischiosi che sono quelle delle criptovalute è interessante questo movimento perché solitamente le criptovalute i bitcoin che è il re e la regina delle criptovalute di solito seguivano molto il nasdaq l'ha quasi sempre seguito negli ultimi mesi invece oggi è stato il primo giorno in cui il nasdaq o meglio i bitcoin guadagnano e guadagnano un bel po' e invece devo dire che il nasdaq come dicevo prima è molto 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 male quindi qui è da guardare molto questo movimento dal mio punto di vista diamoci un occhio perché questo 3% 250 dei bitcoin e questo 2 invece è più di perdita del nasdaq è davvero davvero molto molto interessante arriviamo a casa nostra e andiamo a vedere un po' facciamo fare i puntati su tre azioni amplifon meno 3% ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con ricavi in crescita dell'11,6% a 1,5 miliardi di euro rialzo del 13,3% a 369,5 milioni di euro su base di corrente con il margine operativo lordo il rialzo praticamente del 13,7% a 120 milioni invece è l'utile netto altra azienda che dovevamo tenere sott'occhio l'ho detto ieri Unicredit ha migliorato le previsioni per l'esercizio 2022 anno che dovrebbe chiudersi con un utile netto superiore ai 4,8 milioni chiaramente escusa la Russia più 3,5% altra batosta oggi invece per Tods meno 18% l'OPA promessa dalla famiglia della Valle si è conclusa ieri con adesioni complessive pari al 48,9% delle azioni chiaramente quelle che erano oggetto dell'offerta al 12,9% del capitale totale non raggiungendo chiaramente la soglia del 90% come era previsto dalla condizione per l'efficacia chiaramente dell'operazione e il titolo in borsa ne ha risentito davvero davvero tanto ragazzi con questo è proprio tutto vi avevo detto che oggi avrei parlato un po' di più un 5 minuti di più chiaramente rispetto alle altre domani bene o male secondo me sarà lo stesso perché ci sarà da commentare molto attentamente la trimestrale di meta quindi chiaramente appuntamento a domani per le news della giornata in borsa grazie a tutti grazie a tutti